Non ci sono onde abbastanza potenti per tutto il surfare, quindi stiamo decidendo cosa fare questa mattina, probabilmente surferemo oggi pomeriggio. Cambio di programma, inter-surf, svaga lì. Sto entrando al mercato di Agadir, qui ventrono diverse cose, ora mostro un po' cosante. Arrivato praticamente all'orario di apertura, infatti per quello non c'è tantissima gente e adesso stanno accadendo le stracine estri e gli oggetti sposti. Qui vengono anche le scarpe. Qui potete trovare qualsiasi cosa, da spezie, addirittura caramelle, vestiti... Allora, come sei andato? L'Italia. L'Italia. Io bene, ma sia bene Marrocco. Per trovare vestiti, scarpe, oggetti per la casa, quindi casalini, qualsiasi cosa, borse, prodotti tipici. Questa qui è praticamente la zona dove si trovano i bancari di fritte per terra. Prezzi non ci sono, perché bisogna negoziarlo il prezzo. Se non lo sai, dove voglio mi dire che ti dirò? C'era dove voglio mi dire che si p因... Perché non lo sai, non lo sai. C'è uno che dì? Non c'è uno che dì? Non c'è uno che dì, ma... Delo di butter, non c'è uno che dì. No non c'è uno che dì? No, non c'è uno che dì. Non c'è uno che dì. Dì, c'è uno che dì. C'è te? Che dì? C'è uno che dì? Sì, no c'è uno che dì. Perché c'è uno che dì galore? Non c'è uno che dì bacino a fare. un'anima un'anima e lui invece come se diceva Omar,Hola? Hola Cosa Dormitore perchè Cosa 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 Con tu Qiù Vaya Ciccino Ciccino Come on man Ciccino 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 Ci Can Non c'è la stessa, il grado di materiale. C'è per l'interno e per tutto. C'è per l'hiver, per il freddo. C'è per il deserto? C'è per la nuite? Sì, sì. Questo è il mercato di Agalir. Vi faccio vedere un po' cosa si può acquistare qui. Prendiamo il vano e tornare in un hotel. Inoltre ciò che faremo qualche altra attività. Clare il termino di Dupλά. Maavze con questo piano non c'èowa, Questa è un po' cosa più piroga. Per sentido, il compitere... L'euro finale siamo distribune. Le Boc Simply Curved con sia le Sora Academy.